Non la trovo, è proprio quello che sono... Nadia Rosso! Nadia Rosso! Nadia Rosso! Se lo trovano... Da dove vieni? Pollenzo. In provincia di Cuno. E pensate quanto tutto questo viaggio... Per te! Per me? Falsa, falsa! Falsa, falsa! Pensavo fossi venuta per farci sentire una fantastica canzone. E qua vi vogliamo vedere un po' scatenati, non come adesso, cioè... Facciamo un... In piedi! Sì, sì, vi voglio vedere tutti in piedi! No! Avete una certa! Avete mangiato come delle vacche prima, quindi... In piedi! In piedi! Voglio vedervi in piedi! Non importa, non importa! Tutti in piedi, tutti in piedi! Non l'avete ascoltato? Non l'avete ascoltato? Ok, tutti in piedi! Adesso, cosa vuoi che facciano? Che ascolti! Va bene, potete rispettare! Come faccio quello che vuoi fare? No, dovete! Nel ritornello fare... Cos'è? 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 Perché noi... Qua abbiamo solo i migliori! Noi abbiamo solo... The best! Canta, Nadia Rosso! Un applauso! Grazie! Applauso! Grazie! 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione